Dalle testimonianze di chi ha visionato il gemello a prodo sulla costa del Monte Negro possiamo presupporre che niente sarà più lo stesso su questo tratto di costa e di mare. E questa la preoccupazione dei bagnatori della zona sud di Pescara che denunciano la scarsa informazione ricevuta dagli enti preposti in merito ai lavori per la posa del cavo Tivat, l'elettrodotto che dovrebbe collegare le due sponde dell'Adriatico dal Monte Negro a Pescara. Il cavo sottomarino dovrebbe affiorare dall'acqua in corrispondenza della foce di Fosso Valle Lunga dopo un percorso di 390 chilometri in mare, passando poi tra il quartiere Pineta e il villaggio Alcione per raggiungere Villanova. I lavori per la posa del cavo dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2015. Il 10 dicembre sono scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni da parti di enti, associazioni e cittadini rispetto alla richiesta di concessione demaniale cinquantennale avanzata da Terna che verrà discussa il prossimo 16 dicembre in conferenza dei servizi. Nessun pregiudizio sull'elettrodotto, quello che non va secondo i bagnatori, è l'essenzialità delle carte che illustrano il progetto. Inoltre, le notizie che giungono dal Montenegro, dove i lavori sono già stati avviati, fanno temere agli operatori turistici problemi per le loro attività commerciali. Quello che noi gridiamo a gran voce e il motivo per cui siamo innanzitutto arrabbiati è perché un progetto di questa portata non è stato reso noto nei dettagli e in qualche modo condiviso anche con tutti quei soggetti privati cittadini o imprenditori o qualsiasi tipo di soggetto giuridico entrasse in concomitanza con questa opera di cosa vogliono fare, come, quando e per quanto tempo e con quali effetti, cose che sicuramente pregiudicheranno la nostra qualità di vita, le nostre attività.